Salve a tutti, in questo video vediamo come potenziare i PAL su PAL World. Cominciamo con il primo sistema che è la Statua del Potere, facciamo Potenzia PAL e trovando in giro per la mappa le anime, possiamo utilizzarle per potenziare PV massimi, attacco, difesa e velocità delle attività. Consiglio i primi tre. Allora, man mano che si potenziano le cose, serviranno più anime e anche altri tipi di anime, come adesso quella viola, ad esempio. Questa è essenziale, fatelo sui PAL più potenti che avete da tenere in squadra prima di andare dai boss. Importantissimo. Ecco qua. Poi, altra cosa, la capsula di potenziamento, che a un certo punto la potrete sbloccare come tecnologia. Andiamo a costruirne una qui. Ok. Ora, questa è molto particolare, dovete sacrificare alcuni PAR della stessa specie per potenziare uno. Ad esempio, prendiamo questo che ho in squadra. Una volta selezionato, ci chiede di selezionarne altri quattro simili della stessa specie. Fatto questo, li andiamo a distruggere, ma la loro essenza andrà a potenziare il primo selezionato, che avrà più PV massimi, più attacco e più difesa. Ora, se vogliamo continuare con il potenziamento, ce ne serviranno 16, quindi va in modo esponenziale, diventa sempre più difficile farlo, ovviamente. Ecco perché è essenziale catturarne tanti della stessa specie. Infine, andiamo a osservare i PAL in squadra e andiamo a sostituire le mosse deboli con quelle forti. Ad esempio, questa qui da 70 di potenza, la vado a sostituire con questa qua da 100, che li ho fatto apprendere io stesso dall'inventario. Ci sono degli oggetti che insegnano le mosse ai vostri PAL, quindi andate a potenziare anche in questo modo i PAL. Inoltre, l'abilità compagno, ci sono alcuni PAL che hanno un'abilità compagno particolare, ad esempio, un sandalux a il lancia granate, quindi potrei cavalcarlo e sparare con il lancia granate. Ovviamente, devo sbloccare la tecnologia e costruire l'attrezzatura, che di solito è una sella. E questo è quanto. Un saluto.